Abbiamo sentito dei figli già pronti a prendere in mano un'azienda. Mi auguro che per loro sia il mio futuro in sostanza. Spero nei miei figli che continuino questa attività. Noi la stiamo portando avanti e spero che loro possano poi continuare negli anni futuri. E quali sono le soddisfazioni di aver portato avanti un'azienda così? Beh, essere conosciuti un pochettino, aver cercato di spingere i nostri prodotti del Piceno soprattutto all'estero. Questa è la più grossa soddisfazione. Quasi il 60% dei nostri prodotti vanno a finire all'estero e la riconoscenza da parte degli acquirenti per quanto riguarda la qualità dei nostri prodotti. Questa è la più grossa soddisfazione. Che cosa hanno di particolare i vostri prodotti? Beh, la differenza rispetto un pochettino agli altri sono i profumi. Noi abbiamo una varietà, la tenera scolana che ha delle caratteristiche un pochettino un po' diverse rispetto a tutte le altre varietà che è questo profumo, questo frottato intenso con sentori di pomodoro che è molto apprezzato, un po' particolare. Ed è per questo un pochettino che siamo diventati un po' così famosi, diciamo famosi, un po' grossa la parola, però insomma conosciuti proprio per questa tipologia di oliva in sostanza. E questa azienda cosa produce? Noi produciamo principalmente olio extravergine di oliva in sette differenti tipologie. Produciamo olio aromatizzati fatti in maniera naturale e poi facciamo, siamo fondatori del consorzio della DOP dell'oliva tenera scolana, facciamo quindi anche l'oliva della tenera scolana conosciuta sin dal tempo dei romani. Ciao! 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 Ciao!